Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte e bentornati in un nuovissimo video sul canale Siamo tornati in un video recensione per parlare di un prodotto veramente interessante Innanzitutto si tratta di un microfono a condensatore Ma perché non andiamo subito a vederlo? Il pacco ce l'ho qui dietro Ok, il pacco è enorme Si tratta quindi di un microfono TC2030 L'azienda Tonor verrà in circa sui 79€ Quindi all'incirca sugli 80€ Ma ovviamente andiamo a spiegare tutte le sue caratteristiche con l'unboxing Prima di proseguire con l'unboxing vero e proprio Voglio darvi un po' di caratteristiche Innanzitutto ha un grande diaframma da 24mm placcato in oro La qualità è ovviamente molto buona perché il suono viene registrato in maniera nitida È un dispositivo eccellente per registrare la vostra voce Per registrare video, per registrare comunque canzoni e per registrare anche giochi Inoltre ha la frequenza di campionamento posta a 24 bit L'USB è 2.0 Quindi il microfono TC2030 Che è la versione di questo microfono dell'azienda Tonor È compatibile sia con macOS che con Windows E ha il supporto antiurto in metallo Quindi partiamo con l'unboxing Ok ragazzi, quindi proseguiamo con l'apertura del pacco Ok, è veramente gigante Andiamo a prendere il microfono che ovviamente è questo qua Lo poggiamo un attimo qui Successivamente togliamo tutti questi moni di istruzione Abbiamo anche ovviamente il coprimicrofono L'asta per ovviamente sostenere il microfono Mi è pesantissima, non me l'aspettavo così pesante Ora andiamo a vedere come è possibile montarli Andiamo a prendere anche tutte le altre cose che sono presenti Come per esempio anche il supporto del microfono E questo invece serve per fissare il microfono Ovviamente alla scrivania o dove lo volete appoggiare Dietro tutte queste statue e tutte queste pose Troviamo innanzitutto il pop filter E successivamente troviamo anche il cavetto USB Per collegare il microfono al nostro computer E questo è tutto quello che abbiamo Ovvero l'asta per il microfono, il pop filter Il microfono, il cover microfono Quello che serve ovviamente per fissare il microfono alla scrivania E successivamente il sostegno per il microfono Andiamo a vedere dove è possibile inserirlo Perché io comunque ho già un microfono Che è questo qui della OK Quindi andremo a fare un test di tutti i microfoni E vediamo cosa ne esce fuori Ok ragazzi questa è esattamente la mia postazione Qui abbiamo ovviamente il mio Samsung Nevermic Che è il microfono che ho utilizzato per registrare questo video Fin dall'inizio col pop filter In ogni caso qua sopra invece troviamo il microfono di AOK Ci ho fatto un video recensione Ve lo lascio nelle schede di questo video E un po' più sotto ho attaccato il microfono della Tonor Eccolo qua anche col copy microfono Come vedete è placato in oro Ha un grande diaframma da 24 mm L'ho attaccato qui sopra Quindi pende verso sotto Mentre il microfono della OK va verso sopra Comunque adesso io procederei a testare tutti questi microfoni Partendo dal Samsung Nevermic Per poi arrivare a quello della OK Per poi ovviamente passare al microfono principale di questo video Che è quello della Tonor Nello scatolo c'era anche un pop filter Però non l'ho utilizzato Perché avevo già quello della OK Che come vedete è questo qui Che se lo alzo mi copre sia comunque il microfono di AOK Eccolo qui E se lo abbasso posso anche utilizzarlo per il microfono della Tonor Il Samsung Nevermic invece è una cosa a parte Procediamo quindi al test Ok ragazzi ci siamo Sto registrando col Samsung Nevermic Per intenderci quel microfono grigio Che vi ho fatto vedere per primo Che ha quindi una postazione a parte E' coperto anche questo da pop filter Proviamo a toglierlo Ok adesso sto registrando col Samsung Nevermic Senza pop filter Ora mi avvicino un attimo per farvi capire Come registra da vicino E se mi allontano a mano a mano Comunque fatemi un'idea di comunque come registra Io mi sto allontanando Adesso provo ad avvicinarmi Quindi mi sono avvicinato Spero che non si senta tanto forte Perché se no vi sbacco i timpani Comunque questo è il microfono Samsung Nevermic Ora proverei a passare al microfono da OK Che per intenderci è quello dorato Che avete visto nel precedente filmato Ok ragazzi in questo momento Sto registrando col microfono di OK Che è quello dorato che avete visto qua sopra In questo momento sto registrando con questo microfono OK senza il pop filter Proviamo a inserirlo Ok ho inserito il pop filter Spero che qualcosa sia cambiato Fatemelo sapere nei commenti ovviamente Quale microfono preferite E ora ci manca il microfono Tonor Quindi andiamo a vedere come registra il microfono principale di questo video Che troverete ovviamente su Amazon Al presto come ho detto all'inizio del video Di 80 euro Un microfono veramente buono Infatti adesso andiamo a vedere la differenza di registrazione Ok ragazzi questo è praticamente il microfono Tonor Con inserito il pop filter Spero che si noti la differenza Visto che questo microfono è comunque nuovo Viene un po' di più E quindi più professionale possiamo dire Perché lo potete utilizzare per tantissime cose Come registrare Come per esempio fare canzoni Podcast Tantissime tantissime cose Non ho detto una cosa importante Non avete bisogno di alcun software esterno Da installare nel vostro computer Ma servirà solamente il collegamento del cavo USB col microfono A una porta USB del computer Per ovviamente settare questo dispositivo come predefinito Dovete aprire la finestra audio del vostro sistema operativo Quindi del vostro computer In caso di Windows dovete cliccare praticamente su il menu di ricerca Scrivere audio Quindi gestisci dispositivi audio Cliccare ovviamente sulla finestra che porta questo microfono Quindi nome e toner E per inserirlo come predefinito Dovete schiacciare su imposta come microfono predefinito Ovviamente se cliccate su proprietà E andate sulla sezione livelli Avrete la possibilità anche di modificare ovviamente l'audio Quindi magari a mano a mano che vi allontanate Il microfono registra la vostra voce in maniera più potente Quindi registra comunque la vostra voce anche a una distanza maggiore Comunque ragazzi come ho fatto col Samus Unmetormic Provo ad avvicinarmi In questo momento sono molto vicino al microfono E comunque provo anche ad allontanarmi Quindi magari Ok ragazzi spero che si senta qualcosa Mi sono un attimo allontanato Fatemi sapere se si sente Ok diciamo che l'esperimento può concludersi qua Provo un attimo a cacciare il pop filter Questa è ovviamente la registrazione del microfono toner Senza pop filter Ma ovviamente la rimettiamo immediatamente Quindi ragazzi la mia recensione si può concludere qui Avete visto la differenza fra i tre microfoni Sarete voi nei commenti ovviamente i giudici di questi tre prodotti E ovviamente nella descrizione troverete il link che porta al sito Amazon Dove potete acquistare il microfono toner Prezzo comunque di 80 euro Lo potete trovare anche scontato a 59,99 euro Qualche volta quindi state aggiornati magari per risparmiare un po' di soldini Comunque io ve lo consiglio soprattutto se streamate su Twitch Se registrate video O comunque se volete registrare qualche canzone così per gioco qualche volta È possibile utilizzarlo anche su Skype O comunque per qualsiasi piattaforma come PlayStation 4 o Xbox One E potete parlare anche con i vostri amici sul TeamSpeak Quindi ragazzi per questo video è tutto Ovviamente sto concludendo questo video con la registrazione attraverso il microfono toner Mentre l'ho iniziato con la registrazione col Samsung Meteor Mic Quindi ragazzi per questo video è tutto Io vi invito a passare a visualizzare ovviamente la pagina di questo microfono Vi invito anche a mettere like a questo video se vi è piaciuto A commentare, a scrivervi al canale soprattutto E di passare a vedere anche il video recensione del microfono Ok che lo lascio qui sopra sulle schede Ma ovviamente vi invito anche a passare dai miei canali secondari E per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ok ragazzi piccola pausa prima di continuare il nostro video Io vi invito a entrare sul sito un milione di fan social site Link anche di questo sito in descrizione Vi permette di avere un sacco di agevolazioni sui social Per esempio fan per pagine Facebook, like di pagine Facebook Oppure scorrendo anche su Instagram Follower di Instagram, like post di Instagram Commenti o visualizzazioni ai video O anche addirittura YouTube con visualizzazioni, iscrizioni, like E addirittura gli spettatori in diretta